Ciao, sono Paolo Brada e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Prima di lasciarti al video, ti ricordo che se ti va puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e seguirmi anche sui social. Buona visione e ricordati di condividere il video. Grazie a tutti. 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 Anche questo video è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Un mi piace, la condivisione e l'iscrizione al canale sono più che graditi. Se volete potete seguirmi anche su Facebook, Twitter e Instagram.